salve a tutti ragazzi e ben trovati su crystal cross diary alla fine l'ho voluto e barra dovuto fare un video su questo tema perché effettivamente soprattutto nell'ultimo periodo diciamo che qualcuno stava cominciando ad accorgersi di qualcosa ok e perché nonostante tutti i miei sforzi effettivamente questa cosa ha iniziato un po trasparire non tanto nei video quanto nelle live perché lì purtroppo non c'è niente che tu possa fare per tagliare giusto purtroppo gente oggi vi devo parlare dell'insonnia di una gran brutta bestia che in realtà mi ha sempre un pochettino accompagnato io non mi ricordo un momento della mia vita dove ho proprio dormito in maniera regolare super tranquilla eccetera per lunghi periodi di tempo diciamo che è stato sempre un dei momenti è peggio dei momenti è meglio e dei momenti effettivamente sto bello tranquillo ok quindi non è una cosa super costante però l'insonnia è una cosa che mi accompagna praticamente da sempre come mai questo devo fare una premessa contrariamente a quanto si potrebbe pensare di me considerato il tipo di approccio che ho con le cose i tipo di discorsi che mi piace fare che credo giusti io sono un tipo molto emotivo che cosa vuol dire che somatizzo moltissimo quello che accade intorno a me anche questa è una cosa che ho da sempre gli eventi i problemi le cose riverberano sul mio corpo in una maniera quasi istantanea da moltissimi punti di vista e però negli ultimi anni crescendo maturando eccetera mi sono deciso ad affrontare questa cosa e a cercare di essere un pochettino più insomma un po più resiliente agli agenti esterni accompagnato anche da un discorso e un'abitudine a considerare tutto quello che ti accade come principalmente responsabilità individuale cosa che credo fortemente perciò ho cercato di ovviare cercare cercando di essere un pochettino più resiliente e cercando di ragionare sulle cose e quindi prenderle alla giusta maniera e per carità ho ottenuto degli ottimi risultati da questo punto di vista tanto che uno che è come me che in anni passati quando ero ragazzino per delle brutte cose era capace di bloccarsi per una o due giornate intere adesso invece vado avanti lo stesso ok perché si matura perché si capisce eccetera ma non è di questo che voglio parlare voglio parlare dell'insonnia perché questa è una cosa che purtroppo posso gestire fino a un certo punto che cosa vuol dire che per quanto tu voglia essere motivato al cento per cento a fare una determinata cosa se per due settimane dormi al massimo tre ore a notte purtroppo questa è una cosa che comincia ad avere un peso su di te e indipendentemente da quanto tu possa essere determinato in modalità schiaccia sassi alla fine ne risenti perciò insomma eccomi qua a parlarne un pochettino con voi voglio descrivere come è stata la situazione dall'inizio della quarantena a ora più o meno un po la sapete perché effettivamente ho già fatto un video sul fatto che non è un gran bel periodo per me semplicemente perché già un futuro che era un po grigio diciamo nella mia vita è diventato improvvisamente abbastanza nero non proprio nero pece però abbastanza nero grossi nuvoloni all'orizzonte per via del mio lavoro che già andava così così riuscivo sì e no a racimolare qualcosa e non era assolutamente una cosa stabile neanche da lontano e adesso poi è diventato un ho ancora qualche lavoro da fare dopodiché davanti a me si staglia il libero orizzonte capite che purtroppo questa cosa nonostante tutte le mie capacità di razionalizzare tutto il mio voler tenere duro nonostante tutto purtroppo vuoi o non vuoi questa cosa si è insinuata in me e la somatizzo con l'insonnia quando ho una preoccupazione cose del genere una delle prime cose che mi succede è oltre a problemi di stomaco di intestino eccetera cosa più comune in realtà anche l'insonnia comune comincio a non dormire purtroppo è così per carità non penso di non dire cose particolarmente nuove a nessuno di voi c'è chi non somatizza di più c'è chi lo somatizza di meno io parecchio ho potuto ovviare a questa cosa soltanto con la determinazione però siccome va avanti da un paio di mesi abbondanti comincio veramente a perdere colpi nella fattispecie per esempio nelle live di world of warcraft che durano tre ore questa cosa si è iniziata a sentire che cosa mi succede io sono capace di rimanere sveglio nonostante tutto ma quando non dormo per tante notte con tante notte consecutivi che cosa ho detto tante notte consecutivi tante notti consecutive se ne va anche il linguaggio effettivamente sono quasi le tre di notte e tanto per cambiare sono sveglissimo in questo momento proprio non ho il minimo accenno di sonno tanto per entrare nel nel tema in sostanza quando non dormo per un po di notti consecutive si verifica una cosa che non vi preoccupate non mi viene sonno la notte dopo è questo il problema ma durante la giornata ho degli improvvisi momenti in cui mi arriva una botta di sonno che è come non so di il paragone è una cazzottata di tyson cioè ti arriva improvvisamente un cazzotto e stai completamente estordito e fatichi a mantenere coscienza cioè veramente una cosa a volte più grave a volte meno grave ma ci sono dei momenti in cui devo fare proprio uno sforzo con tutta la forza di volontà che ho in corpo per non dormire là dove mi trovo ok e ma perché non posso farlo durante la giornata perché sto facendo un'altra cosa e poi ho come l'impressione che peggiorerebbe la situazione ulteriormente se mi addormento per tipo quattro ore in mezzo alla giornata e poi ancora peggio alla notte quindi è una cosa che purtroppo mi è già successo e è uno dei motivi per cui cerco di evitare in tutti i modi di fare questo ok cosa mi succede durante specie le live di world of warcraft che durano un pochettino di più che nonostante tutte le red bull adesso ci arriviamo mi può succedere lo stesso c'ho dei momenti che sto giocando e devo cercare di mantenere la concentrazione perché sto proprio lì che mi si sta spegnendo il cervello faccio proprio fatica inizio a vederci doppio faccio proprio fatica a mantenere la concentrazione e sento che proprio il corpo che improvvisamente è come se avesse deciso di sua spontanea volontà ok spegniti no e io sto combattendo no no non adesso non ti devi spegnere adesso maledetto adesso no più tardi no e quindi tutte le forze riesco a mantenere il tipo coscienza e poi arriva il momento di andare a dormire invece sveglissimo che cosa facciamo cose del genere ok perciò avete notato che in qualche live di world of warcraft per chi le segue qualche volta faccio io nelle live faccio i 60 secondi di pausa per staccare le puntate no sto parlando di cose del canale di gaming ovviamente invece qualche volta mi prendo cinque minuti perché questo quando mi prendo cinque minuti nella maggior parte di casi è perché mi sta arrivando una botta di sonno tale che io in quei cinque minuti devo andarmi a sciacquare la faccia fare tipo un po di saltelli e cioè prendermi a sberle qualche volta letteralmente per riprendere un attimino cognizione di causa magari andare a prendere un'altra red bull e almeno rimettermi in funzione per continuare la live ok ragazzi purtroppo mi rendo conto che vi ho fatto un un quadro che sembrerebbe piuttosto spaventoso e preoccupante per molti di voi però adesso arriviamo a qualche punto aggiuntivo che forse anche peggio nel senso che io per esempio detesto il caffè ok non l'ho mai sopportato in vita mia solo un periodo l'ho preso della mia vita facendo degli enormi sforzi mi dà fastidio lo stomaco mi mi fa venire la nausea è come se il mio corpo un po lo rigettasse cioè non devo avere una sorta di piccola intolleranza nemmeno nemmeno il gelato al caffè mi piace questo genere dico nemmeno una caramella al caffè non non fa proprio per me proprio lo detesto no e però il caffè ha una proprietà molto importante che è la caffeina e molti lo usano per iniziare la giornata per esempio no o durante la giornata per mantenersi attivi ci sono delle alternative c'è il tè perché contiene teina non mi fa niente c'è il guaranà un'alternativa con certe proprietà provato anche ad alte dosi non mi fa niente ha anche il tè con tipo tre bustine non mi fa nulla tè particolari con aggiunte di caffeina con queste cose c'è perché ci sono queste misture non mi fa niente neanche quello quello che funzionano più o meno sono gli energy drink purtroppo perché dico purtroppo perché nell'ultimi due mesi hanno praticamente preso il posto del caffè di una persona che ne prende tanti al giorno e sto bevendo una quantità di red bull che è fuori dalla grazia di dio e questa cosa non va bene assolutamente me ne rendo conto sono quelle con bassi zuccheri cose del genere ma questa cosa ovviamente non va bene però ragazzi purtroppo la realtà è che se voglio continuare a produrre e a fare delle cose è l'unico modo che ho trovato almeno al momento per funzionare letteralmente mi rendo conto che ci sono le giornate che se non mi sparo un paio di red bull non ce la faccio proprio cioè il corpo non mi risponde non riesco a concentrarmi per fare quelle minime cose con cui per cui ci vuole la testa nella fattispecie nell'attività di youtube anche fare una live insomma io vi devo intrattenere in una maniera o nell'altra se sto completamente zombie o muto o strascicando le cose ma che live è meglio non farla e no non va bene perché io mi sono imposto di fare un certo tipo di lavoro e ci sono dei motivi per cui mi sono imposto di fare un certo tipo di lavoro perché se non lo fai non raggiungi i tuoi obiettivi per il lavoro vero cioè quello da tecnico del suono stessa cosa no sto continuando a farlo il più possibile e il meglio possibile nonostante la situazione attuale è perché se non lo faccio non raggiungo i miei obiettivi e qua arriviamo alla parte veramente problematica ovvero che questo sarebbe il momento per che ne so staccare un po e boh riposarsi rigenerarsi liberarsi delle red bull insomma fare una sorta di periodo di stacco di così ma ragazzi io già so che non funzionerebbe anzi peggiorerebbe le cose perché l'insonnia mi deriva dalla preoccupazione per il futuro io lo so che è così ormai mi conosco l'idea di non sapere assolutamente che cosa succederà richiederebbe avere un certo livello di incoscienza e di buttarsi che purtroppo non mi appartiene più di tanto sto quasi cominciando a pensare che dovrei lavorare più su quello che sulle altre cose di dire senti vada come vada veramente ma io non sono capace sia per l'età che ho l'età in cui effettivamente nascono queste preoccupazioni e per carità come vi ho detto tante volte metà del mio cervello ha ancora 17 anni l'altra metà però ne ha 35 la mia età vera e la parte del cervello che ha 35 anni non vive per niente bene l'idea di essere come tanti in questo periodo e mi rendo conto senza delle prospettive vagamente serie per il futuro e perciò si fa sentire si fa sentire forte la mia parte di cervello da diciassettenne e si sta preoccupando di fare bene le cose che che amo fare e con con il massimo impegno ed edizione dal lato della passione l'altro mio cervello mi sta dicendo ok ci vuole metodo tutto quanto eccetera è questo l'obiettivo che ti sei prefissato ma qua non si sta quagliando no ecco se non si sta quagliando io la vivo male se la vivo male arriva l'insonnia se per via dell'insonnia mi riposo e smetto di fare le mie attività sono ancora più preoccupato per il futuro perché non sto facendo niente perciò è effettivamente un cane che si morde la coda e oltretutto ragazzi ora ve ne ho parlato in questi termini abbastanza serie forse questo video è venuto più serioso e più preoccupante di quanto avrei voluto all'inizio sarà perché la sera poi arrivano sempre che mi si accumulano i pensieri con una dinamica che secondo me molti di voi conoscono ed è probabilmente il momento peggiore della giornata anche perché ormai dopo tutto sto tempo già so che arriva l'insonnia capito quindi è ancora peggio così e quindi insomma alla fine ve l'ho fatta un po drammatica in realtà razionalizzando c'è questo che voglio dirvi io vi sto facendo questo video perché mi fa piacere parlare con voi di queste cose sono convinto che qui sotto nei commenti ci saranno delle persone che vogliono esprimere la loro vicinanza o darmi qualche consiglio oppure soffro anch'io di insonnia ti capisco pure soffro anch'io di insonnia ho fatto questo per risolverlo per per insomma cercare di attenuarla e mi fa molto piacere se se riceverò questi commenti dico davvero il fatto ai ragazzi che però vorrei che fosse chiara una cosa il mio modo di pensare è sempre lì grazie a dio questo l'ho ottenuto nel corso degli anni tante altre cose non ho ottenuto ma questo sì questa è una cosa che ha cambiato la mia vita e che verrà verrà trattata probabilmente in un video a parte molto importante probabilmente ci farò anche più di un video su questa cosa qui cioè il considerare ogni cosa come propria piena responsabilità assumersi al 120 per cento la responsabilità di quello che hai intorno a te di quello che fai perciò ragazzi mi rendo conto che è comunque nelle mie possibilità superare questo momento in maniera ottimale e soprattutto che è un momento sono in una spirale un po diciamo poco consigliabile in questo momento è assolutamente vero però so anche che è una cosa che si può risolvere è una cosa che è solo momentanea è questo periodo e a un certo punto si spera le cose andranno meglio no quindi io lavorando su questo cercherò di migliorare la mia situazione perciò io lo sto vivendo come una cosa che mi sta seriamente menomando da molti punti di vista e non mi sta facendo fare le cose al ritmo che vorrei che è già tanto magari qualcuno di voi si potrebbe sorprendere ma già fai un sacco di queste cose come puoi pensare di farne ancora di più ragazzi io posso fare molto più di così questa è un'altra cosa che è frustrante perché questa insonnia mi toglie moltissima energia e concentrazione e potrei fare molto più di quello che sto facendo adesso per esempio negli ultimi due mesi saranno almeno una quindicina i video abbastanza speciali che avrei voluto fare che alla fine per un motivo per l'altro non ho fatto perché non avevo le forze o la la presenza mentale in quel momento allora ho continuato a fare cose un po più semplici rimandando questa cosa un pochettino a tempi migliori e quindi è frustrante questo periodo sicuramente e posso fare di più so che posso fare di più spero che questa cosa migliori ma so che ho tutte le armi per risolverla questa cosa questo vuole anche essere un messaggio importante per chi magari si trova in una situazione vagamente simile alla mia o anche molto peggiore decisamente perché tutto sommato mi vedete parlare abbastanza tranquillo e non una situazione di dramma assoluto però vuole essere un messaggio positivo questo perché queste cose possono essere sconfitte possono passare io lo so ne sono sicuro e questo è un periodo ragazzi perciò so anche qualcuno che qualcuno di voi sicuramente mi scriverà dicendo stai esagerando stai tirando troppo la corda guarda che poi ti spezzi guarda che stai esagerando e fatta no ragazzi perché dovete capire che il livello che ho adesso è non è turbo cioè non è al massimo delle mie potenzialità il massimo delle mie potenzialità so che è molto più in là di così posso fare molto di più sento di poter fare molto di più adesso sono frustrato e meno mato e così perché non sto facendo quello che vorrei fare vedo nero per il futuro tutto quanto questo ma non mi sento consumato so di poter fare di più sono frustrato dal fatto di non riuscire a farlo e di non avere ancora un'idea piuttosto chiara di come posso uscire da questo circolo vizioso però vuole anche essere un messaggio del fatto che anche uno fortemente emotivo e sono sicuro che tra di voi ce ne sono a voglia perché sono molto comuni le persone molto emotive si può migliorare si può diventare un pochettino più con la spina dorsale dritta con un principio di andare avanti nonostante le difficoltà che farà bene alla vostra vita ve lo garantisco ragazzi ero molto più negativo in anni passati ok fino a una decina d'anni fa ero veramente molto negativo come come pensiero come persona davo la colpa a un sacco di cose intorno a me ero frustrato e infelice di quello che non riuscivo a fare di quello che così adesso non è così la frustrazione è perché vorrei fare di più non perché non mi sta riuscendo quello che sto pensando di fare ora in questo momento ok io so perché non mi sta riuscendo poi per carità ci sono i momenti in cui l'emotività un pochettino vince non è solo l'insonnia sono tante piccole cose ma sono delle delle storture delle cose che si possono risolvere non è una mancanza grave di prospettiva riguardo a queste cose vedo che invece magari tante altre persone invece secondo me ce l'hanno questa grave mancanza di prospettiva cioè che ognuno di noi ha in sé le armi per risolverle queste situazioni perciò diciamo che devo solo dopo tanti tentativi cercare di imboccare la strada giusta e so che nel momento in cui le cose dovessero iniziare andare meglio che vedo delle prospettive per il futuro impegnandomi per questo per far sì che avvengano allora sono quasi certo che l'insonnia piano piano comincerà a sparire o ad attenuarsi molto rendendo la cosa francamente gestibile ok questo è quello che penso ragazzi questo è quello che vi volevo dire con questo video spero che non sia stato un video troppo serioso ragazzi perché non voleva esserlo forse davvero ve l'ho messa più drammatica di quella che è è una brutta situazione ragazzi so che sto facendo veramente fatica e la descrizione avrà probabilmente come ho detto allarmato qualcuno di voi ma io non mi sento così allarmato mi sento preoccupato non per la situazione attuale ma per il futuro che è il motivo per cui ho l'insonnia adesso quindi se riesco a risolvere questo problema di prospettiva vedere un pochettino luce in fondo al tunnel diciamo così allora già so che la situazione sarà molto migliore anche nel presente ok e so di poter avere le armi per lavorarci già da subito però ogni tanto mi fa piacere fare questi video per chiacchierare con voi perché sono un essere umano anche io che cerca empatia di fatto c'è questa componente è inutile negarlo principalmente sto facendo questo video perché ho come l'impressione che qualcuno di voi abbia iniziato ad accorgersene che qualcosa non va e comincia a trasparire nel video ci ho proprio iniziato il video in questa maniera quindi è questa una delle ragioni principali per cui esce adesso però va avanti da un po quindi questa è la situazione non è una cosa drammatica è un problema è un problema consistente posso risolverlo ci vuole qualcosa che al momento ancora non vedo del tutto ma sicuramente non smetterò di provarci e lavorare duro per questo il problema è che sono le tre di notte alle sette e mezza mi sveglio e non dormirò per altre due ore io già lo so temo purtroppo almeno è stata la storia delle scorse notti sto cercando di non auto condizionarmi in questa cosa ma vi garantisco che dopo due mesi è difficile ok poi per carità facciamo una piccola parentesi poi arriva la giornata in cui proprio il cervello fin dalla primissima mattina non mi risponde no cioè si rifiuta di rispondere e tipo nonostante io metta la sveglia a un volume devastante semplicemente mi alzo la spengo torno a letto non mi ricordo neanche di essermi alzato e aver spento la sveglia eccetera mi rimetto a dormire mi sveglio all'ora di pranzo e per il resto della giornata starò con questo terrificante senso di colpa di aver sprecato una mattinata di cose che volevo fare che avevo riempito di cose da fare ritardando la mia programmazione il mio lavoro le mie impegni le mie cose ma almeno il lato positivo è che ho dormito ok quindi ciò queste giornate ogni tanto che capitano che ciò quel tipo di relax che il corpo ha proprio raggiunto il punto di di rottura e lì si proprio mi succede questo esatta ve l'ho descritta esattamente come capita ok infatti quando parlo con mamma con mio fratello gli dico quello che è successo ma come fai a non esserti ricordato di esserti al ricordarti esserti alzate già dicevo evidentemente stavo talmente proprio in un altro mondo che rimosso e vabbè questa è la situazione ragazzi questo è quello che sto vivendo in questo periodo non è nulla di drammatico tutto è risolvibile è una situazione insomma che è un problema abbastanza consistente ma non è nulla che non si possa risolvere ok credo che il vero dramma sarebbe preoccuparsi troppo ok preoccuparsi per il futuro è una cosa che non riesco a evitare di fare proprio non ci riesco ma se mi preoccupo troppo per il presente per la situazione attuale sono sicuro che faccio molto peggio perciò è meglio se lavoro per per il futuro e per le prospettive ok e questo significa però continuare anche con le mie attività far crescere i canali far crescere il mio lavoro far crescere tutte le mie attività su tutte le piattaforme tutti i canali eccetera e ho tante cose in serbo per voi proprio recentemente ho finalmente dopo tanto tempo rifatto una riunione con i miei collaboratori e abbiamo parlato di tante cose ho grandi progetti che copriranno tutto a questo anno 2020 in cui vedrete veramente delle cose fantastiche spero tanto di riuscire a dormire un pochettino di più che così arriveranno a un tempo ragionevole e non a singhiozzo con me che rimando le cose ok come spesso accade e adesso sapete anche un pochettino perché tra gli altri problemi va bene ragazzi io direi che è tutto vi ho già annoiato abbastanza con questo mio video che finisce sempre per essere praticamente di una mezz'ora e però sentite è così che intendo esprimermi in questo in questo canale questo è un diario aperto questo è un diario personale un canale proprio di diario è un canale di comunicazione diretta tra me e voi senza tagli senza troppi pensieri quando ho voglia di fare un video ho esigenza o ritengo davvero che sia il caso di fare un video su questo canale prendo e lo faccio senza troppi pensieri ok di questo canale non mi interessa neanche tanto quanti siano realmente le persone a seguirmi ma se volete stare in contatto dal punto di vista strettamente personale con me e con le mie attività sappiate che è questo il canale giusto d'accordo quindi ragazzi direi che è tutto per adesso noi ci vediamo alla prossima volta fatemi sapere nei commenti quello che pensate sarò molto curiosi a leggere la sezione commenti di questo video effettivamente e noi ci vediamo su questo canale in altre occasioni ma soprattutto sugli altri canali quelle attività di gaming e non solo molto presto d'accordo grazie mille a tutti i ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciato un like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto trovate tutti i link ai miei social quelli di diary i link a tutti i miei altri canali se volete iscrivetevi perché la svolgo le attività diciamo principali e niente grazie per aver visto questo video d'accordo a presto ragazzi